Gli aggiornamenti del resoconto di oggi riguardano gli sviluppi nella direzione di Pokrovsk. Con la stagione delle piogge oramai imminente che minaccia di trasformare i campi ucraini in insormortabile fanghiglia, i russi sono costretti a lanciare affrettati assalti prima che scada il tempo a disposizione. Gli ucraini stanno sfruttando questa necessità per infliggere grosse perdite alle forze russe e prendere tempo per poter fortificare a sufficienza le loro difese. Lo scopo principale dei russi in questa direzione continua a essere il raggiungere e catturare la città di Pokrovsk, importante centro logistico per le forze ucraine a Donetsk. Ma prima che i russi possano avviare l'operazione d'assedio, devono prima superare l'ultima città della linea Selidove-Novorodivka-Rodivka per proteggere i fianchi da eventuali contrattacchi ucraini. Il piano russo era quello di catturare Selidove con un rapido assalto frontale, ma l'operazione è velocemente collassata sulla pressione causata dai costanti contrattacchi ucraini. Come le forze ucraine hanno spostato rinforzi nell'area di Selidove, i russi non hanno più potuto raggiungerla e hanno dovuto cambiare tattica. Il nuovo approccio ha visto i russi attaccare Selidove da nord e aprire un nuovo vettore d'assalto da Novorodivka. Sfortunatamente per loro, gli ucraini hanno contrattaccato con un carro solitario che ha raggiunto e bombardato i gruppi d'assalto russi. Il video non censurato è disponibile nel nostro Telegram. In più, mentre i russi all'inizio dichiaravano di aver preso Marinivka, geolocalizzazioni li hanno sbugiardati, indicando che le posizioni in quell'area erano ancora ucraine e che minavano l'intera operazione di fiancheggiamento russa. E' importante ricordare che alla fine di ottobre inizierà la stagione delle piogge, che trasformerà i campi ucraine in fanghiglia che rende gli assalti meccanizzati praticamente impossibili. Il tempo a disposizione dei russi per catturare se di dove proseguire verso Pokrovsk e quindi agli sgoccioli. Ed è quindi comprensibile perché hanno continuato con le manovre contro Marinivka per completare l'operazione di fiancheggiamento il prima possibile. I soldati ucraine operanti nella zona hanno riportato che i russi lanciavano assalti da tre lati, rendendo la difesa molto difficile. Le perdite per i russi sono state pesanti, come si vede dalle geolocalizzazioni, che mostrano quasi 50 cadaveri russi in una sola strada, che non usavano neppure per gli assalti ma solo per accumulare le forze per questi. Le ondate di Fanterie hanno infine permesso alle forze russe di schiodare gli ucraini dal saliente, ma non prima di pesanti perdite avvenute nel corso di due settimane, il che ha dato tempo sufficiente ai difensori di Selidove di fortificare la città e organizzare meglio le posizioni difensive. Avendo fretta di anticipare la stagione delle piogge, il comando russo ha deciso di ordinare altri assalti diretti e continuati contro il fianco nord di Selidove. Ma dovendo avanzare nella stessa direzione in cui si erano ritirati gli ucraini, hanno incontrato forte resistenza appena si sono avvicinati alla città. In più, una delle fortificazioni che protegge Selidove è il Terricon a nord. Questa è la più grande montagna di scarti nell'area, con una superficie di più di un chilometro quadrato e alta più di 50 metri, permettendo agli ucraini di proiettare il controllo di fuoco sulla parte nord della città e bersagliare gli assalti russi. Geolocalizzazioni mostrano la frequenza di questi assalti. Possiamo infatti vedere che, mentre un trasporto truppe si ritira da un fallito attacco, ne arrivano altri due per quello successivo. Le immagini mostrano anche lo scontro tra i due veicoli, il che li ha esposti ai droni ucraini, che hanno distrutto tutti e tre i BTR-82, un modello di veicolo oramai relativamente raro dopo le centinaia di esemplari rimasti distrutti nella guerra. In generale, anche se i russi si stanno avvicinando a sé di dove, gli ucraini hanno avuto settimane per preparare le posizioni difensive e mantenere fermo controllo su tutte le difese in città. Le forze russe hanno anche poco tempo per ottenere i loro scopi operativi, essendo la stagione delle piogge oramai alle porte, il che li priverà del poter effettuare assalti meccanizzati. Non solo, andrà anche a danneggiare la loro logistica in quanto non sono molte le strade che rimarranno agibili. Al contrario, gli ucraini a sé di dove possono fare affidamento su una rete logistica molto più solida, dando loro un significativo vantaggio operativo. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.